Buongiorno a tutti, tanti saluti da Berlino. Che peccato che il Festivale di Torre Chiara quest'anno è cancellato. È uno dei miei preferiti posti per suonare un concerto. In questo periodo molto strano, molto speziale, la musica ci manca tantissimo. Speriamo che possiamo ritornare sul palco fra presto. In frattempo vi mando un piccolo saluto musicale e in futuro facciamo sul palco di Torre Chiara. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.